Ti piace quello che fai per vivere? Le cose che vedi? Devi metterti i paraocchi a volte. Il più delle volte. Il detective William Somerset sta cercando il modo di uscirne. Stai andando in pensione, sei giorni ancora e tanti saluti per sempre. E lei da quant'è che vive qui? Da troppo. Il detective David Mills sta cercando il modo di entrarci. Passeremo insieme ogni minuto fino al momento in cui me ne andrò. Ti insegnerò a distinguere gli amici dai nemici. Senti, sono da cinque anni nella squadra omicidio. Non questa. Adesso. Signore e signori, ho il piacere di presentarvi un omicidio. Sono stati presi in un gioco. Niente impronte digitali e tantomeno testimoni ocolari. Nemmeno uno. L'unica cosa che sappiamo finora di quell'uomo è che è completamente pazzo. In cui il prezzo del peccato è la morte. Ci sono sette peccati capitali. Gola. Non vuoi venire a vedere questo? Avarizia. Che nessuno tocchi niente. Acidia. Ira. Superbia. Lussuria. E invidia. Sette. Quindi aspettatene altri cinque. Il corpo è stato trovato martedì mattina. Odio questa città. Prenderemo il colpevole. Sarà un esempio memorabile di processo Lambo. Ci sono altri due cadaveri. Altre due vittime. È un uomo metodico. Esigente. È quel che è peggio paziente. Ci sta ridicolizzando. Aveva una pistola. Mi mancano due omicidi per completare il suo capolavoro. Ehi! È ora di farla finita. Brad Pitt. Morgan Freeman. Gwyneth Peltro. Avete mai visto una cosa del genere? No. Save it.